Musica Bella ragazzi, sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay e siamo qui con un video di A Voi La Scelta di nuovo e intanto siamo su Whiteout, che è una app a ghiacciande e volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno consigliato la classe ora è il primo e poi ovviamente Giuseppe Cantiello che me l'ha consigliata lui per consigliarmela dovete passare sulla pagina Facebook perché io farò il post dove vi chiederò di consigliarmela e voi ve la scriverete sotto nei commenti perciò se volete, intanto li sto facendo neri attenzione quest'arma che io ho avuto una merda perché è veramente strana poi anche il silenziatore è l'elsat, questo silenziatore è mirino termico pensate un po' a cosa può essere attenzione qua me la sono vista brutta siamo a 4.0 non so perché ho ricaricato perché è piena la cosa però vabbè andiamo da qua perché questa mappa non la conosco tanto bene perché non ci ho mai giocato perché di solito io rascio e queste mappe per rasciare non sono ottime però con quest'arma penso sia l'ideale pof porca troia pof porca troia comunque deve essere proprio figo l'arma quella lì il reaper come cazzo si chiama tanto che io non voglio lasciargli i soldi per questo DLC perché solo per l'arma perché comunque poi si sa fanno sempre schifo questo mi stava a seguire portaci tu mi sento uno qui non è che partita fiacca non c'è nessuno ma dai ma sempre da dietro ma chi è c'è nessuno qua no è il segreto che abbiamo perso il comando ma questo ma da ma stava girato vabbè va meglio che imparro guarda cazzo stanno va bene va bene dove siete non si trovano gli avversari ottimo pezzo di merda proviamo un po' sto reaper qua sto reaper vediamo com'è sempre che mi danno modo di usarlo e dai ma io lo sapevo che fa a fine così lo sapevo uno prende in mano il reaper e poi vabbè non è destino vuol dire che fa schifo come arma comunque dai un po' perché voglio uccidere qualcuno siamo in positivo con un'arma di merda quindi può andare bene diciamo però ci abbiamo fatto quella morte del cazzo lì con quel reaper reaper ro nessuno capirà questa cosa in testa attenzione cioè mica spicci proprio spiccetti stanno tutti qua che becco da di là dove cazzo sei andato io lo sapevo che c'eravo dietro ero sicuro ero sicuro dove cazzo sei ma che cazzo c'è ma compari come ti pare a te dio santo ecco si è rotta pure il coso il visat ragazzi fatemi sapere anche voi cosa hanno pensato dei god perché io ovviamente mi sono veramente stancato non ce la faccio più questo gioco e il prossimo god non lo so se lo comprerò sinceramente perché veramente ha stancato proprio io lo accendo a me soltanto per fare questo questo video qua cioè questa serie qua che è carina mi diverto anche a fare ma se ci dovesse giocare così da solo non ne mi avrebbe proprio voglia fatemi sapere voi cosa ne pensate se anche voi siete stancati se continuate a giocarci cioè una volta mi veniva proprio da andare a cercare le game queste cose qua adesso a zero gioco solamente a fifa praticamente intanto io continuo a cercarle ma non c'è nessuno eh ma dai ma fai pure culo però eh figlio mio su ma l'hai ammazzato dieci volte ma hai ammazzato solo te praticamente su nove morti che ho fatto ma hai ammazzato otto volte te una volta sono morto quel cosetto cioè cazzo di buddha però qua l'avevo visto prima io oh è piede l'underculo molti abbiamo pure sto ripper no e vaffanculo me lo fai usare pezzo di merda niente non è destino non sa da fare cazzo ma perché sono cascato vabbè sono stupido pure io te la piando il culo eccolo città mi ha fatto prendere il colpo no dai su ma perché ma perché cioè se stanno tutti qua devono cascere dietro ma fatemi capire perché santo dio niente non c'è nessuno non c'è nessuno eccolo anche il ritardo ma lo ammazza perché lui sta da dietro sta girato ma come parlo cioè non riesco più a parlare benissimo vabbè allora vaffanculo è sempre lui sempre lui oh ariorio mamma mia che nome cazzo ho visto uno laggiù ma non c'è nessuno esci fuori quanti sono là quanti sono uno due il cane il cane di merda ole ah tre e dai però e mo basta cioè siete troppi una certa sta finendo anche il tempo pensate che partita di merda è stata comunque noi se tutto va bene finiamo in positivo se non muoio due volte in quindici secondi qua c'è la mischia dai su mazza che sfiga e muore ovviamente ovviamente dovevo morire sul gong vabbè porca troia allora 16-14 ottimo ariorio vaffanculo muori questo sono io quanto sono bello con l'elsat che è più grosso di me comunque ragazzi che è più grosso di me